Benvenuti nel mondo degli orologi Alain Silberstein. Alain Silberstein è uno dei marchi di orologi più innovativi e distintivi del mercato. Fondato dall'ex architetto e designer omonimo, il marchio si distingue per il suo design artistico e contemporaneo, che combina forme geometriche, colori saturi ed elementi Bauhaus. Nel corso dei decenni, l'azienda ha raggiunto fama internazionale tra gli orologiai francesi, attirando l'attenzione dei collezionisti di orologi in tutto il mondo. Infatti il famoso designer ha collaborato con una grande quantità di marchi di grande prestigio per la realizzazione di orologi vivaci e dallo stile Bauhaus. Tra le realizzazioni più affascinanti nate dalle collaborazioni, si possono citare l'LM1 Silberstein, creato con MB&F, il Grail Watch 1, creato con Ressance, e il Grail Watch 4, creato con Bell & Ross. Tutti questi modelli richiamano perfettamente lo stile Bauhaus, firma inconfondibile di Alain Silberstein. Ma non sono solo le collaborazioni a distinguere la Maison. La collezione di Alain Silberstein comprende una vasta gamma di orologi, tra cui la collezione Smile Day, che presenta orologi con una finestrella aggiuntiva sopra la data a ore 6. Questa finestrella mostra uno smile che cambia umore a seconda del giorno. Questa eccentrica e audace complicazione rende Alain Silberstein un marchio che propone funzionalità fuori dagli schemi. I design di Alain Silberstein sono ispirati a molteplici influenze artistiche e culturali, tra cui la pop art di Kit Haring e il minimalismo della scuola di design Bauhaus. Questo si riflette nei dettagli degli orologi, come ad esempio l'uso di colori vivaci, forme geometriche audaci e grafiche ispirate al Bauhaus. In sintesi, Alain Silberstein rappresenta il perfetto connubio tra arte, design e tecnologia, un marchio che ha saputo distinguersi nel mercato degli orologi di lusso grazie alla sua originalità e alla sua qualità artigianale. Se sei un appassionato di orologi, non puoi non avere un Alain Silberstein nella tua collezione.